Musica Musica Atenta, va ragazzi, qua Oxlogic, ho in grado, oggi sono a sole e sono qui a presentarvi questo video che avrà un qualcosa di stra speciale e stra fantastico perché infatti oggi sono qui a presentarvi un wager match allora innanzitutto contro un ospite speciale che infatti saluto questo mio sfidante di oggi sarà SodinCH per chi non lo conoscesse il link del suo canale lo trova in descrizione comunque magari lo conoscete come fratello di Zoda ed è un altro youtuber che fa video di FIFA e oggi abbiamo deciso di sfidarci per un qualcosa di stramagico non per un giocatore, non per dei crediti ma bensì per il nuovo FIFA quindi oggi vi presenteremo, credo che sia anche il primo in Italia il primo wager match di FIFA 15 io andrò ad utilizzare questa squadra qua che è quella del mio squad builder poi evidentemente mi sono portato anche delle riserve abbastanza forti cioè appunto nel caso servissero non credo di avere altre cose da dire quindi ah no, prima di iniziare volevo ricordare di passare la FIFA con gli stash e bando alle ciance andiamo ad invitarlo non avete idea dei livelli delle mie attenzioni non è qua, è proprio andata, è sopra comunque se state vedendo con una luce un po' strana è perché dato che non si vedeva niente ho chiuso le tapparelle e ho acceso la luce ragazzi c'è un problema no, mi sono rotto no dicevo, ragazzi c'è un problema Sodin non viene e ragazzi come zero? che baghe? cos'è? perché ha un zero d'attacco? chissà con un zero d'attacco quante cose riusciremo a fare no, spero che sia un bug perché boh allora vediamo la sua squadra 3-5-2 Martinez Toz di Vargo Muglia è inquadrato quindi Colombia Serie A Liga Portuguesa Varela Mangala Martinez è bella è bella sì bella sì ma noi siamo pronti ragazzi e si parte Zlatanillo Zlatan con i numeri Zlatan con i numeri vede Malapa Malapa sono contro un portiere pallonette c'è il gol è al settimo minuto si portava in partaggio Malapa dai 9.0 oddio palla per Malapa colpo di minchia di Milapa oddio incredibile Malapa pancia boh 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 intervento Raffa legname di The Stan meno male giallo dai hamster pekarik 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 per Malapa controllo no cos'è Malapa Ibra incredibile non si capisce più niente Ibra è ancora Milapa ma quindi no quadrato in mezzo non ci credo ma stiamo scherziamo che cosa ha fatto cos'era no cos'è non ci credo ma in queste partite mi devono fare ste paperi miei vai vai bestia vai bestia bravissimo ha bestia madonna no non c'è nessuno madonna finito il primo tempo incredibile tensione partita molto equilibrata devo dire bella bella gundogan orca miseria calcio d'angolo usiamo lo schema dio che bus cos'è era gol era gol no ma scherziamo era gol porca miseria no porca miseria vacca giuda boia no dio mio fa gol adesso su calcio d'angolo bella bella sta palla bella sta palla bella bella anche questa bella anche questa questa mi piace di più Ibrahimovic Peter Bruin che la mette in mezzo Rodríguez non ci arriva miracolo suo mio dio mio dio oddio rigore 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 calcio di rigore all'ottentatuesimo voi sapete come tirare i rigori quindi potete già capire l'esito come lo so rosso buono bravo così ho preso pure la palla Zlatan 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 Ibrahimovic pregno non mi librai controlla lenta ma scuola e c'è il gole Zlatan Ibrahimovic ci porta il maldato 2-1 all'ottanta e 4-3 grandi vici se prima ma scuola e basta palla è Zlatan che finali non so se si è in Zlatan ma ci portiamo su 3-1 all'ottanta altesima grandi buono è vero dovrebbe essere nostra guarda per Zlatan incredibile Zlatan boom no no marappa 4-1 e chiudiamo sta partita buono eh ora che viene una più il difensore non appunto ci dà tante occasioni Howard la rinvia sento odore di vitto no no dov'è arbitro diamano al fischietto ed è finita e abbiamo vinto incredibile buonissimo buonissimo dai mamma mia ragazzi 9 tir io 9 in porta 5 lui 3 in porta lui ragazzi FIFA 15 è nostro vado mi son cambiato perché vabbè stavo c'era la tensione quindi io sudavo ma come sappiamo tutti sudare umano mest e comunque ragazzi questa qua era la mia squadra o meglio la squadra che ho utilizzato come voi ben sapete o meglio come alcuni di voi sanno ci ho fatto uno squad builder se non l'avete visto oppure se volete rivederlo vi basterà schiacciare adesso sullo schermo perché infatti io vi metterò il link e comunque detto questo io ringrazio ancora Sodin per avermi dato appunto l'opportunità di giocare contro di lui io vorrei fare una rivincita quindi se voi tutti volete una rivincita questo video deve raggiungere i 4500 mi piace quindi lasciate già un bel mi piace adesso che poi anche comunque arriveranno molti altri video simili diciamo in un futuro perché infatti io cercherò di risuidare Gabbo appunto per fare tipo la terza partita solamente che adesso non mi risponde e vedremo un attimo cosa fare e quindi detto questo vi ringrazio l'eusione io vi saluto e dico potente appassi dentro il vostro video bolla ah ragazzi ecco riguardo a fifa dato che io preferisco andarlo a prendere di persona perché appunto magari mi porto anche un paio di giochi o cose così abbiamo visto che il preorder su amazon costa 60 lui cosa farà mi passerà 60 su paypal zoom e ragazzi ti sono stati inviati 60 euro con paypal nota fifa 15 e quindi rispettabile perché l'ha fatto e quindi detto questo io vi risaluto e basta e basta